Lucia, congratulazioni per questa prima vittoria sull'erba. Come ci si sente? Sono contenta, è la mia prima esperienza della carriera sull'erba, quindi è stato bello inaugurarla con una vittoria. Mi sono trovata bene per essere la prima volta e spero di continuare ad andare avanti. Visto che è la prima volta, che cosa hai imparato che magari è diverso da altre superfici? Quindi su che cosa bisogna lavorare? Sicuramente il rimbalzo è molto più basso, quindi bisogna stare molto bassi, la palla è rapida e quindi è importante appunto stare bassi e cercare di essere aggressivi perché soprattutto su questa superficie se riesci a spingere prima dell'avversaria poi riesci a procurarti vantaggio. Assolutamente. E adesso come ci si prepara? Prima pagina fatta e ora come entri nella modalità per la seconda partita? Ora mi riposo, cerco di recuperare al meglio, domani non giocherò, quindi prenderò questa giornata come giorno di allenamento per riprendere tutte le energie e mi preparerò alla prossima partita. Assolutamente. Poi prima volta Gaiba, descrivici un pochino l'atmosfera, come l'hai trovato questo piccolo paesino? È piccolino però è molto molto ben organizzato, sono tutti gentili e è tutto comodo diciamo, quindi l'importante è quello e mi sto trovando molto bene. Ottimo e forse un'ultima domanda proprio sulle sensazioni di giocare sull'erba, che emozioni provi? Cosa ti passa per la mente? Cosa senti quando sei sull'erba? Beh sicuramente quando si parla di erba viene in mente Wimbledon e che è uno dei tornei più eleganti e il più importante forse di tutte e quattro gli ESEM, quindi è veramente bello e sono contenta.